Salve a tutti giocatori, benvenuti in un nostro nuovo video, altra mattinata di novità, questa volta per dei supporti che secondo me dovevano essere fatti. Prima di iniziare, come sempre, mi invito a scrivere il nostro canale prima dell'esempra, aggiornate un mondo di Yuke non solo, grazie mille, e andiamo a vedere. Allora, praticamente sono tutti i supporti per gli archetipi di Amazing Defenders, cosa che serviva? Allora, Pureri Lily, un altro mostro di livello 1, perché il mazzo ne aveva esclusivamente appunto 1, e quindi un altro era d'obbligo. Se questa carta viene normalata o specialata, aggiungiamo una carta Pureri dal deck alla mano, eccetto una magia rapida. Possiamo targettare una magia rapida Pureri nel cimitero, specialiamo un Xyz, che è la menzione dell'extra deck utilizzando questa carta come materiale, e se lo facciamo attacchiamo quel target al mostro evocato come materiale addizionale. Questo è trattato come un'evocazione Xyz, ovviamente i Pureri per ogni carta magia con un tot nome ci hanno tot effetti, quindi è ottimo sia per avere un altro mostro di livello 1 che sia per attaccargli dei materiali. La maggior parte delle carte Pureri sono magie rapide, però questo comunque ti fa dare una carta generica, non per forza una magia, quindi ottimo, carta molto buona, e andiamo poi a vedere l'altra carta per i Mikanko, Fufuride Orbe Mikanko. Allora, possiamo utilizzare il terzo effetto una volta per turno, se questa carta non è equipaggiata con una qualsiasi carta in magia equipaggiamento, non prendiamo danni da battaglia, da battaglie che coinvolgono lei. Se invece lo è, non può essere rotta in battaglia, e l'avversario invece prende tutti i danni che dovremmo prendere noi. Ok. L'avversario non può targettare Mikanko, che controlliamo con gli effetti delle carte finché controlliamo una carta equipaggiamento, se questa carta viene equipaggiata con una carta equipaggiamento, possiamo aggiungere una carta trappola Mikanko dal deck alla mano. Buona perché più o meno Mikanko non ci hanno, non so, parati da effetti, praticamente, cioè, in battaglia può darsi che con un colpo all'oppo lo tickappi, però non ci hanno roba per proteggersi. Questo almeno li rende intergettabili, quindi, finché controlliamo una carta equipaggiamento, quello che gli fa anche un po' da... li pare, insomma. Purery Sleepy Memory. Applichiamo questo effetto, poi scartiamo una carta. Se lo facciamo, specialiamo un mostro livello 1 d'archetipo dal deck. Una volta applicato il prossimo danno da battaglia o d'effetto, in questo turno diventa 0. Purery, Xyz, che hanno come materiale questa carta, guadagnano il secondo effetto. Una volta per turno, durante la Stand by Face, possiamo pescare una carta. Ok, interessante. Interessante, perché comunque ci permette di specialarci un purery. La carta che andremo a scartare ce la riattaccheremo come materiale con gli effetti, quindi magari se scarti una magia rapida poi te la vai a riattaccare. Il fatto che i purery diventano... ci vanno da peschino è molto interessante. Ancora non so come può essere strutturato il mazzo, però, insomma, non è male neanche questa carta. È un po' fastidio il fatto di scartare uno, però, insomma, di speciali quello che ti serve, e credo che questa sia una carta molto buona. Dance of the Mikanko, Fascinating Bird. Il mostro equipaggiano non può essere strutturato dagli effetti delle carte, ed è un altro modo per evitare di farseli spaccare, è un altro modo difensivo, quindi buono. Allora, se un Mikanko combatte alla fine del damage, possiamo targetare una carta sul terreno e la faccio rimbalzare in mano, quindi, tanto i Mikanko non vengono rotti in battaglia, quindi fa anche rimbalzino. Se questa carta è nel cimitero, possiamo targetare un Mikanko nel cimitero, lo specialiamo e se lo facciamo lo equipaggiamo con questa carta. Però, ovviamente, bandiamo il terreno quando lascia il terreno. Però non bandiamo la carta equipaggiamento. E questo è importante, anche perché comunque fa un numero, anche perché comunque ti serve per renderle intrargettabili con l'altro mostro che abbiamo visto. Carina, carina, perché comunque quello ci protegge i mostri dai target. Questo ce li protegge dalle distruzioni. Non sarà il massimo, però comunque buono, buono. Reinforce, possiamo utilizzare il secondo effetto non oltre per turno. Tragettiamo Rescue Ace e controlliamo. Fino alla fine del turno vada nel 1.500 attacco e difesa, diventa amore gli effetti dei mostri. In più, la prossima volta che sta per essere sotto in battaglia, non viene distrutto. Possiamo bandire la salata al cimitero per targetare Rescue Ace. Una magia nel cimitero e la settiamo sul terreno. Ok, rende il mostro praticamente amore. Anche Rescue Ace non è che ci avessero tanta roba per negare o farsi o proteggersi. Quindi diciamo che ci sta. Non sono supporti per nulla male. Forse sono un po' quello che servivano sicuramente. Sicuramente mica anche hanno roba per proteggersi. Pure diciamo qualche magia, qualche mostro in più. Rescue Ace ha quella protezione dei mostri che potrebbe essere utile anche per chiuderla perché aumenta nel 1.500. Quindi non male, non male. Ci siamo, dai. Detto questo ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti. Grazie. Grazie.